Oggi gli spostamenti tra regioni sono assolutamente possibili, non c'è più nessun obbligo di quarantena, ma abbiamo chiesto un piccolo sacrificio a chi rientra da altre regioni, in particolare quello di segnalare la propria presenza sul territorio pugliese sul sito della regione Puglia, quindi una cosa che è già stata fatta. Immaginate che ben 80 mila persone sono andati a vedere questo modulo di autosegnalamento e ben 6.700 persone sono a questo momento riuscite a segnalarsi. Si tratta di avere cognizione della presenza di chi da altre regioni arriva in Puglia e poi abbiamo chiesto a queste persone un piccolo sacrificio di mantenere un appunto dei luoghi e delle persone che hanno incontrato durante il soggiorno in Puglia. L'epidemia è quasi azzerata praticamente, però ove dovesse essere utile, mantenendo questi appunti, avremo una memoria più precisa delle persone che abbiamo trovato e se dovesse essere necessario sarebbe più facile mettere, questa volta sì, in quarantena tutti quelli che hanno avuto un contatto stretto con un contagiato. Questo piccolo espediente più la app Immuni, che non è obbligatoria però, a differenza delle misure che vi ho detto, potranno darci quella sicurezza che anche laddove questa riapertura dovesse far rialzare i contagi, siamo in grado immediatamente di mettere in quarantena non più tutta la società pugliese, ma solo coloro che sono realmente pericolosi per un'eventuale nuova esplosione dell'epidemia. Ovviamente, ve lo ripeto, si tratta di un'ipotesi attualmente che non ha nessuna reale consistenza, perché i contagi sono bassissimi e soprattutto noi speriamo che questa seconda ondata che si prevede per settembre-ottobre non si verifichi, ma ci stiamo preparando per l'eventualità che questa situazione possa realmente verificarsi. In ogni caso, mi raccomando, fate delle buone vacanze, con distanziamento, utilizzando le mascherine, rispettando gli altri, soprattutto avendo grande cura nel evitare qualunque tipo di contatto sospetto senza indossare le mascherine. Grazie, buon lavoro, buona vita, anche buone vacanze, perché no in Puglia.